Toleranza zero per qualsiasi comportamento illegittimo o incompatibile con i nostri valori. È una nota stringata ma ferma, quella che diffonde in mattinata MOM, dopo che è stata resa pubblica la notizia dell'arresto di un suo dipendente, un autista a 58enne di Valdo Biadene accusato di aver palpeggiato delle giovani studentesse, addirittura minorenni, sul bus. La scorsa settimana l'interrogatorio di garanzia, quindi la pesante misura cautelare, gli arresti domiciliari. La prima reazione mia e di tutti i lavoratori MOM è stata di sbigottimento e profondo sconcerto, ha commentato il presidente Giacomo Colladon, che ha preso dalla stampa del provvedimento nei confronti del conducente. Siamo a disposizione degli inquirenti per il completo accertamento dei fatti, esprimo la nostra vicinanza nei confronti delle giovani studentesse coinvolte e delle loro famiglie, aggiunge. MOM ha avviato tutte le iniziative atte a tutelare l'utenza, oltre che l'onorabilità della propria organizzazione. Assicuro, conclude Colladon, che adotteremo la massima intransigenza verso comportamenti che appaiono in totale contrasto con il codice etico e di comportamento aziendale e con i valori fondanti della nostra società. Le indagini sul 58enne da parte dei carabinieri sono partite in seguito alla denuncia dei genitori di tre studentesse di un istituto professionale della marca. Il dipendente MOM si è affidato al suo legale di fiducia, l'avvocato Tullio Tandura di Feltre, che intende ora impugnare la misura cautelare davanti al tribunale del riesame, chiedendo la revoca dei domiciliari per il suo assistito.